Continuo alla missione musicale di One Song for People, oggi mi trovo nella bellissima isola di Corfu e sto per incontrare Fenia che è una musicista della tradizione musicale greca che in questi giorni mi ha accompagnato veramente nel cuore della tradizione. Con lei dovremmo anche organizzare la festa di benvenuto per il nuovo equipaggio che adesso Diego sta imbarcando in Italia e quindi noi lo stiamo aspettando e lo coglieremo a braccia aperte per vedere se la nostra musica italiana si incrocia bene con quella greca del gruppo di Fenia. Qua ci sono sempre un sacco di cicale ma è veramente fantastico il paesaggio. 15 anni fa, proprio quando ho iniziato a imparare le grecche danzze, mi piaceva molto la musica, mi piaceva la musica e ho iniziato a spartare e cantare un piccolo. e il paese d'avoff imparare le grecche Cosa hai scelto la musica tradizionale e non la musica di disco? Prima di tutto, posso esprimere me stesso. Ho una grande connessione con questa musica. Ho avuto un momento meraviglioso. E poi, un'altra ragione è che voglio sharelo con la comunità della mia isla perché abbiamo una cultura diversa e non sappiamo cosa la musica è come nella resta della città. E' stato molto meraviglioso. Quindi, mi sono felice di lasciare le compagnie con loro. E anche mi piace molto. Mi sento la musica per la prima volta e mi piace molto. La buona cosa è che i giovani sono anche interessati. Especialmente nelle altre parti della Grecia. Perché in Corfu abbiamo una tradizione diversa. con le Philharmonica orchestras. Ma ci sono molte persone che vogliono imparare. Do you think che i giovani non comunicano tanto con i giovani? Sì, c'è un problema. Quando i giovani giocano musica, i giovani non possono usually dance. Perché i giovani giocano in un modo diverso. e molto rapido. Quindi i giovani non possono partecipare così facilmente. a la prima volta di slcoma. Com'è la visione Sicilia? Sì, la visione è decima. È un problema della Grecia. Per esempio, è la piazza di altra è la вчera. E, in modo diverso, è un parabolo. E, in modo diverso, è una condizione. Di attrazione. E, in modo diverso ilgio, è una condizione. E, in modo diverso, è un qualcosa di in modo diverso. Especialmente quando è in una partita per due o tre giorni e nattie, continuamente, giochendo, giochendo musica, danzando. Ora non succede così, ma quando abbiamo questo tipo di partiti con le danzioni tradizionali, non stiamo fermo, fino a 5, 6, 7... 4 è molto presto, per esempio. That's why! Ma gabbè! Diccio, d'Ingno, di un cinema, di un film con grande… Oh, prima cosa, vabbè! È un film, ma a me dà! Mi senti, mi senti, si... Le Ròmata! Sanasciam! 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 Sono due musici del nord dell'Itiroz erano dalla Albania erano nascendo ma ora vivono qui in Corfu e giocano la musica dalla loro regione solo dal nord dell'Itiroz quindi è buono perché sono pure sapono come to play solo questo tipo di musica quindi è pure musica dal nord dell'Itiroz la musica tutti in Italia o in tutto il mondo pensano di Sirtaki come la musica tradizionale della Grecia la verità è che Sirtaki è una parola che è stato fatto quando filmarono Zorbas questo film è stato molto famoso e c'è una bellissima melodia di Sirtaki Zorbas Zorbas è chassapiko è un certo danse greek danse con specifiche step e figure che è solo da uomini quindi Zorbas è solo una delle centenze melodie che possono essere danse come chassapiko quindi è solo un termo che utilizzano per il film non realmente esistere no 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 ok Grazie mille per me invitare in questa fantastica settimana dentro della tradizionale musica e dentro del bellissimo Corfu e grazie mille E' stato felice di metterci e buona fortuna nel progetto Ciao Ciao Ciao